della scelta agenda Europa o no e quant'altro, è chiaro che questo argomento del civismo si attenua e viene annaquato o sporcato, potremmo dire, a seconda dei punti di vista, da quest'altro scenario. Quindi condivido la sua analisi, è esattamente quello che penso, ma non solo per una ragione di calcolo, per una ragione di verità, cioè è chiaro che una lista civica viene a essere attenuata nella sua caratterizzazione da uno scontro politico che la sommerga. Quello che intende la mia domanda, lei mi ha dato ragione sull'analisi, quindi il punto 2 porta a due risultati differenti. Il primo, la domanda iniziale del direttore, ovvero lei è in campo, perché se si fa l'Election Day e si va l'Election Day e quindi di fatto il suo progetto dipende qual è, perché se il suo progetto è cambiare l'Italia, cambiare il centrodestra italiano, di fatto questa cosa dell'Election Day è una brutta mazzata. E quindi dice Albertini, che io non conosco benissimo personalmente, ma politicamente abbastanza, so che è molto testardo e anche molto orgoglioso, quindi si confrontano le due cose del non voglio perdere ma non mi voglio ritirare, quindi questo è una giusta... Lei fa delle analisi molto soggettive? No, no, è mia, è mia. No, no, ma ci stanno, alla fine le idee camminano sulle gambe degli uomini, però c'è anche un argomento di contenuto che è comunque la testimonianza di quello che vogliamo proporre. La domanda è, con l'Election Day la sua proposta ha ancora gambe per andare avanti? Ma è chiaro che la caratterizzazione, come dicevo prima, viene attenuata e quindi si può anche avere una diminuzio capitis dell'argomento, però la testimonianza del nostro progetto rimane invariata, anche perché nulla vieta che altri che la pensano come noi sviluppino la stessa esperienza in termini di proposta nazionale. Veda, al tavolo in cui abbiamo presentato il libro diventato famoso non tanto per me quanto per le affermazioni di Berlusconi profetiche in quel libro contenute, poi magari ci ritorniamo, il libro era L'onestà al potere, Roberto Gelmini, 17 settembre, a quel tavolo chi c'era? C'era il PPA italiano, Alfano, Casini, Fini, forse si incontravano per la prima volta insieme senza litigare. Poi c'era il sindaco Pisapia, generoso nell'affermare che avrebbe dato quel libro regalato ai suoi assessori per vedere come si governa la città, lui di Selle, io di un'altra parte, insomma veramente generoso e anche molto leale nei riguardi di un predecessore di altre tendenze politiche ma con cui forse si riconosce una sintonia intellettuale e personale. Poi c'era Nicola Rossi che era ed è il proconsule per così dire di Italia Futura. Quindi questo scenario, questa alleanza è quella che penso per la Lombardia, connotato civico perché c'era anch'io a quel tavolo naturalmente e con quello che rappresenta la candidatura civica ma anche per la nazione. Nella nazione dovrebbe esserci Monti, volendo. Ecco, questo è un po' quello che si può immaginare. Si è citato Pisapia, lei le piace come sindaco o no? La persona di Pisapia, il suo stile schivo, la sua distanza dalla libidine del potere, dal desiderio del prestigio che è un ruolo come uno dei più importanti d'Italia, il sindaco di Milano, certamente a livello di un ministro di serie A e poi ha un traguardo decennale, teoricamente, quindi per carità, però non è innamorato. Lui personalmente sta facendo benissimo perché ha questi connotati di vera dedizione, di servizio ed è una persona molto corretta e molto generosa nei riguardi dell'istituzione. Non sono d'accordo su molte scelte che ha fatto la sua giunta e su alcune indicazioni. Per esempio, quello attuale nel caso SEA, come lo vede? Guardi, quello è stato un colossale pasticcio che però mi richiama un'incompiuta che devo ancora alla Lega, cioè la mancata privatizzazione della SEA nel mio turno di guarda. Una volta, la prima è stata causata dall'11 settembre, dovevamo quotarci in borsa, puoi immaginare le compagnie aeree e i sistemi aeroportuali quanto sono stati negativamente influenzati dall'attentato e quindi abbiamo evitato di farlo. La seconda era molto più tonica perché avrebbe comportato, era una scelta diversa, avrebbe comportato un'asta competitiva con una base d'asta molto stressata sull'EBITDA, cioè sugli indici di bilancio non ci addentriamo in technicalities. Comunque diciamo in riferimento ad altre vendite, ad altre transazioni di sistemi aeroportuali, i 600 milioni di euro come base d'asta per un terzo della società erano una quotazione elevata, al limite della convenienza, tant'è che dei potenziali compratori se ne presentarono solo tre e di tutto rispetto la BA, British Airways, che è la stessa che aveva comperato in precedenza il capo di Chino, la Octif, l'equivalente tedesco e poi c'era un fondo australiano-americano che era interessato più a una dimensione finanziaria che non imprenditoriale. Comunque tre compratori che avevano dichiarato il loro interesse a concorrere tra loro con un euro in più, con vari rilanci, su una base d'asta di 600 milioni. Il fatto che oggi il fatturato della SEA sia a 600 milioni mi fa, non uso una parola avorgare ma capite cosa voglio dire, mi fa un po' inquietare per il fatto che non sono riuscito allora a concludere con questi tre, perché? Perché la Lega che si era molto opposta a questa privatizzazione applica una sorta di statalismo municipale in tutte le situazioni in cui c'è da privatizzare qualche azienda dei comuni o dei territori si mettono di traverso ed era andata avanti per molto tempo questo filibustering della Lega. Avevo dovuto esibire più volte la firma di Bossi al programma elettorale nella quale era espressamente previsto la privatizzazione della SEA e quindi siamo arrivati con molta difficoltà alla conclusione, ma il giorno in cui iniziavano le procedure per l'asta, l'asse Bossi-Tremonti, allora c'era Bossi, oggi c'è Maroni, in un altro scenario, hanno fatto un decreto, un decreto che hanno dichiarato essere nell'interesse di Alitalia, in realtà era nell'interesse dei vettori, di tutti i vettori, Alitalia avrebbe significato un 10% del 100% dei vettori, quindi in realtà si favorivano di più i concorrenti di Alitalia che non a Italia, ma certo si penalizzavano i sistemi aeroportuali, in particolare la SEA con questo decreto del governo Berlusconi, asse Bossi-Tremonti, perdeva nel suo business plan 20 milioni e a questo punto voi capite che erano già al limite della convenienza, nessuno dei tre si è presentato. Quindi tornando a noi, questo che è successo è un pasticcio, ma quello che è successo allora è un'infamia della politica. Pensate cosa sarebbe stato per Milano avere 600 milioni in cassa con cui fare opere pubbliche, avremo già due linee di metropolitana funzionanti. E che cosa sarebbe stato per la SEA avere un socio privato che controlla i conti, che controlla le clientele, che controlla tutto quello che c'è intorno alle 40 mila famiglie che ruotano nel Varesotto, chissà perché è proprio il Varesotto intorno alla SEA e avrebbe avuto un occhio attento anche agli investimenti e al progresso della società. Scusate se ho preso un po' di tempo ma ci tenevo a raccontare. Ha citato Tremonti. Facciamo una piccola digressione sul suo secondo lavoro. Il mio secondo lavoro. Non so se mi viene qualcosa da dire. Il mio imitatore, oramai celebre, sta avvicinandosi al collega Paolo Guzzanti. Abbiamo avuto una gara, abbiamo avuto una gara nella trasmissione Un giorno da Peccare e ho perso 99 a 101. Essendo padre d'arte, insomma posso essere soddisfatto di questa gara. Ecco, e ci ricordiamo appunto che Guzzanti tra le interviste famose fu una telefonata in riunione di redazione Eugenio Scalfari imitando la voce di Pertini. Scalfari era solito poi mettere in comunicazione le chiamate e quindi tutta la redazione pensò di dialogare con Pertini, in realtà era Guzzanti. Lei una delle sue imitazioni migliori è quella di Tremonti. Riusciamo, come le avrebbe detto Tremonti intorno alla SEA con la sua remoscia e col suo stile da professore? Guarda, Albertini, non ti interessare di cose che non puoi capire. Qui è in gioco la politica nazionale. Gli aeroporti sono per i bambini. Gioca con gli aeroplanini, vai a studiare l'inglese che non lo sai bene come me e lascia a noi grandi a occuparci di tutto. I tuoi 600 milioni non me ne frega niente. Noi facciamo quello che vogliamo. Io sono amico di Bossi e faccio quello che voglio. E non mi seccava di più. Fantastico, devo dire, veramente eccezionale. Elighiero non schese doveva venire a scuola da lei. Poi Paolo VI dicono che è un altro suo... Grazie a te in quesimo domini, mentibus nostris in funde, ut cui amge lo non semnti, ho fatto un po' un finale la sua sensibilità di gesuita non le fa velo in questa imitazione non si sente un po' blasfemo mi ha anche cresimato non sente di fare peccato no, no perché penso che nostro signore Gesù Cristo fosse dotato anche di senso fiumor e quindi può solo sorridere del fatto che non prendiamo sul serio noi stessi quando abbiamo cose ben più importanti che ci superano e sono molto più serie di noi vale anche per Tremonti naturalmente quell'ironia che noi abbiamo siamo volentieri riconosciuti in Mario Monti secondo me la sua dote principale davvero anzi posso raccontare un brevissimo episodio è una battuta che però è veramente divertente il giorno degli ambrogini cioè il 7 di dicembre il presidente Monti mi ha telefonato perché avevamo insieme raccomandato forse è una parola che non si può dire comunque è così che è andata a fin di bene a fin di bene un nostro insegnante padre Uberto Ceroni che oltretutto ha compiuto 90 anni in settembre ma è efficientissimo cioè è un ragazzo di 90 anni ancora celebra con un'omelia perfetta la domenica mattina a Leone XIII la messa delle undici e poi svolge ancora l'attività di padre assistente degli ex alunni quindi ci siamo sentiti perché era un bel momento e naturalmente siamo andati a parlare anche delle cose che ci riguardano a titolo diverso e io mi sono lasciato andare in una in modesta comparazione con lui gli ho detto mi siete lasciati andare all'antiberlusconismo più sfrenato Mario ha detto in fondo nel mio piccolo molto piccolo mi sento un po' un piccolo Monti e lui mi ha risposto devo dire con un brio è un senso di humor proprio dall'Oden britannico dice beh non sottovaluterei Montini in fondo è diventato papa e poi meglio essere Montini che Montoni l'ho trovato l'ho trovato impagabile caro caro direttore una frase di questa di questa peculiarità di questa simpatia Rossella Carlo Rossella Rossella o Agnelli che imitava Agnelli lo imitano in tanti anche De Bortoli credo che abbia una buona imitazione di Agnelli questa è una novità De Bortoli è un imitatore anche lui? solo di Agnelli è un'ossessione per la Fiat di De Bortoli non so può darsi per l'RCS forse ha significato qualcosa ma era più Romiti anche lei Romiti ci racconta ma è vero che lei è un po' figlioccio di Romiti politicamente è quello che le attribuiscono come limite dunque sia Romiti che Confalonieri sono stati i due personaggi che mi hanno presentato a Berlusconi nel 97 come diciamo referenze per la candidatura al sindaco di Milano Romiti era il presidente della Fiat e io in quegli anni ero presidente degli industriali metallmeccanici italiani quindi la Fiat era il principale associato di Federmeccanica e Confalonieri era nel comitato di presidenza della Solombarda e io ero è orgoglioso di questi progenitori o è preoccupato? assolutamente sì e sono anche devo dire grato perché sempre nel libro di cui abbiamo lasciato sospeso una citazione nel libro L'onestà al potere di Gelmini ci sono due interviste una a Romiti e una a Confalonieri dove parlando alla Paolo VI quando rispose a Jean Guitton che fece un libro Dialoghi con Paolo VI gli mandò un telegramma posso dire lo stesso di loro Nimis Denobis Dixisti hai parlato troppo bene di noi noi il Papa naturalmente plurale maestatis è che io posso dire lo stesso sono stati molto generosi con la mia modesta persona e io posso essere grato del fatto che mi abbiano dato fiducia e poi non l'abbiano smentita dopo che ho fatto quello che ho fatto Gelmini mi viene in mente la Gelmini molto agitata in questa fase come vede questi del PDL molto vicini a Berlusconi un po' strattonati o no? deve essere in ticket con Maroni per la Lombardia secondo quanto si legge ah questa è una notizia non era ancora uscita ah eccolo qua è uscitissima il giornale di oggi è uscitissima dunque Gelmini Orco allora vede che come un sensitivo ha messo il dito nella piaga ha messo il dito nella piaga ma non ho parole nel senso che sta bene possono organizzare tutte le scelte io avevo pensato addirittura a un un trichet cioè Maroni e poi Mantovani Podestà così fanno la Trinità e io ho fatto la rima però sta bene anche una donna Gelmini senti a proposito di donne meglio la Moratti o Pisapia? ma guardi sul piano politico che fine ha fatto la Moratti? ma credo nessuna fine cioè è ancora tra noi credo che si occupi a tempo pieno di San Patrignano oltretutto in una ultima occasione Bresiale un anno fa circa in cui avevo un colloquio con lei mi parlò con molto molto stress diciamo di una vicenda che aveva poi prodotto l'allontanamento di Andrea Muccioli per malversazioni pare di alcune decine di milioni di euro quindi ha di che occuparsi anche a San Patrignano si ruba e anche il bene ai suoi malvagi operatori perché pare che abbia veramente sottratto al bene collettivo delle ingenti sostanze tutto cioè è tristissimo e forse onorevole facciamo una piccola morale forse che la società civile tanto conclamata non è proprio tanto meglio della politica ma guardi la politica e la società civile in fondo pur avendo dei mondi separati nei loro itinerari nelle loro vicende nella loro storia in fondo appartengono a uno stesso humus cioè che cosa è la politica se non un'espressione della società civile e devo dire che quando poi la politica diventa troppo professionista e cioè si occupa più del posto della sedia del ruolo che ricopro che non dello scopo per cui sono stato investito della fiducia dei cittadini e ho ricevuto il potere legittimo allora si distanzia ancora di più dai bisogni della collettività e quindi questa forse è la differenza la società civile in fondo si occupa della società si occupa del mondo reale la politica spesso si occupa del proprio ombelico ed è il treatrino di cui spesso parliamo la consegno per qualche minuto a Fabio Massa che in quanto responsabile della pagina di Milano sa tutto delle vostre compagne e dunque vogliamo proprio far venire fuori magari mi da qualche notizia che non posso la prima cosa che volevo chiedere visto che prima si parlava con Faronieri comunque di sponsor il quale lei è riconoscente si è letta da più parti la vicinanza tra Formigoni o per Fabio Massa abbracciata in maniera molto netta molto decisa e molto vermovibile come un po' un abbraccio della morte diciamo così povero Formigoni l'ho trattato un po' male ma devo dire che da fonti leghiste come lo dico perché parliamo quotidianamente con fonti di tutti i partiti da fonti leghiste da più parte hanno detto che Albertini abbracciato a Formigoni no va bene non va bene oggi non va bene ieri viceversa un Albertini candidato di tutta un'area sarebbe stato anche sostenuto ma è detto che non vuole fare il calcio dell'asino a Formigoni però insomma l'appoggio a Formigoni l'ha aiutata o l'ha danneggiata? Ma guardi intanto se mi permette diciamo prendo l'argomento da un'altra visuale non so se mi ha danneggiato o favorito certamente ha reso problematico all'interno del PDL l'alternativa se è Camaroni o meglio l'alleanza con la Lega e questo è un aspetto positivo nel senso che condivido questa linea che poi è la stessa di Maroni e cioè un rapporto contro natura ma tornando alla questione che lei mi pone io non mi sono opposto se è conveniente o no quello che può essere da alcuni ritenuto come un'alleanza un accordo una vicinanza che per i problemi che stanno toccando il presidente Formigoni mi possa nuocere sul piano della popolarità io ho sempre distinto tra il governo della Lombardia quello che è avvenuto in questi 17 anni tutto perfettibile tutto migliorabile però comunque il miglior governo d'Italia non sono io a dirlo sono i numeri che possiamo ripetere e ribadire per tratti essenziali non ci sono altre regioni in tutta Italia che hanno il bilancio della sanità che come sappiamo è l'80% del tutto inattivo dal 2001 ce ne sono alcune che in qualche anno sono stati inattivo qualche altra no forse negli ultimi la Lombardia da quando magari l'ha detto l'onestà al potere appunto poi non è una cosa da poco non è una cosa da poco poi 768 milioni è il credito dell'ultimo anno non conosco quello degli anni precedenti ma sono sempre stati inattivo che il che significa che cittadini della Liguria del Lazio della Sardegna di altre regioni d'Italia per un valore di quasi un miliardo comunque avvicino al miliardo hanno scelto di venire a farsi curare in Lombardia e non le loro regioni quindi l'abbiamo detto economicamente in equilibrio qualitativamente inattivo anche sotto questo profilo allora si farà pagare una cifra esorbitante ai cittadini lombardi il ticket beh allora 10 milioni sono gli abitanti oltre i 5 milioni sono esenti da ticket 36 mila euro reddito al di sopra del quale si paga al di sotto no adesso è arrivato a 38 mila meno di 14 anni più di 65 sono 5 milioni in relazione al numero di abitanti è la migliore performance di tutta Italia allora io devo buttare via questa realtà e per non parlare di altri i dipendenti della Lombardia nel 95 erano quasi 5 mila stiamo parlando però della no io sto parlando del governo stiamo parlando di formigoni c'era anche la cattiva lega con l'assessore sto parlando del governo della Lombardia cioè di quello che è successo è stato fatto succedere perché quando le stavo dicendo troviamo nel 95 4 mila e 800 dipendenti adesso sono 3 mila e 600 gli abitanti sono cresciuti il PIL è cresciuto in Sicilia con la metà degli abitanti e un decimo del PIL sono 30 mila quindi questo è il governo poi gli episodi di formigoni per i quali è indagato forse avrà un processo non lo so ancora non risulta che sia stato rinviato a giudizio allora io le faccio tre nomi Vendola Errani del Turco sono 3 presidenti di regione Vendola addirittura ha avuto un pubblico ministero qualche settimana fa che ha chiesto un anno e 8 mesi in un processo in corso per reati contro la pubblica amministrazione è stato assolto con formula piena Errani anche lui è andato sotto processo aveva abuso d'ufficio altri reati anch'essi contro la pubblica amministrazione è stato sconfessato l'impianto accusatorio con una soluzione piena del Turco addirittura è stato in galera è stato messo agli arresti per mesi e dopo sette anni le false accuse secondo la giustizia degli uomini risultano false sono state cancellate allora mi domando perché per questi tre presidenti di regione abbiamo un atteggiamento e il beneficio del dubbio per Formigoni non viene convenientemente applicato io non lo difendo sulle sue frequentazioni lui stesso ha ammesso che frequentare D'Aco andare sulle sue barche fare le vacanze insieme è stato qualcosa di sconveniente perché non è un imprenditore che ha inventato una nanotecnologia per la quale un robottino toglie gli ictus dal cervello è un faccendiere brutto termine diciamo è un lobbista che si occupa si occupava di rapporti tra imprese private nel settore della sanità ma non solo e la regione e quindi avere un rapporto col presidente della regione induce a ritenere che ci fosse sotto qualcosa però al di là delle prove che ancora devono essere affermate è stata una relazione sconveniente però detto questo vale il bambino del buon governo e va buttata via l'acqua sporca di queste situazioni facciamo una domanda invece più contenutistica dopo aver fatto tante domande su persone e cose domanda che faccio spesso anche ho fatto a tutti gli altri candidati primari ad esempio centrosinistra spesso si vive una sorta di milanocentrismo questa vale ancora di più per lei noi viviamo le regionali essendo a Milano media come una partita molto milanocentrica mentre in effetti la partita della regione per esempio Formigoni il suo consenso non ce l'aveva a Milano ce l'aveva Lecco Varese Bergamo Brescia ce l'aveva Lecco sicuramente perché c'è il cognato ma perché è nato lì ah sì hanno fatto scusi una cosa divertente nella stessa classe c'erano Formigoni l'assessore Goggi assessore al traffico professor Goggi Politecnico e Castelli nella stessa classe tutti di Lecco una cosa originale ecco io quello che le chiedo è mi dice tre motivi quindi le chiedo tre motivi tre punti del suo programma magari molto asciugati che però potrebbero convincere un abitante della Valtellina o del Mantovano a votare per Albertini ex sindaco di Milano ma guardi il motivo le dice tre motivi io ne dico uno che vale per tutta la Lombardia non soltanto per Milano anzi Milano forse è meno coinvolta perché ha delle ha il terziario più sviluppato del primario o del secondario anche cioè dell'industria meno che meno dell'agricoltura però quando si parla di lavoro che si perde di persone che magari non sono più giovani e sono licenziati o sono in mobilità tutto quello che riguarda l'incentivo che può essere dato per facilitare il lavoro dei non più giovani attraverso interventi magari incentivi regionali per per le assunzioni di questo personale nelle aziende sottroveremo il modo poi ci sono delle professionalità che avrebbero una domanda ma che non hanno un'offerta panettieri alcuni operai specializzati c'è questo mito del lavoro intellettuale che magari a Milano può ancora funzionare ma in altri luoghi della Lombardia ci sono le fabbrichette ci sono gli artigiani che magari avrebbero da assumere qualcuno e non sono in grado di farlo poi le 923 aziende municipalizzate non sono tutte a Milano e qui abbiamo un'altra divergenza con la Lega una sana concorrenza e delle privatizzazioni virtuose di questo grosso capitale pubblico che può essere messo invece in offerta al capitale privato può dare stimoli all'economia e quindi sviluppare l'occupazione poi ci sono tutti i prodotti questi anche delle valli vini formaggi con altri prodotti soprattutto devo dire enogastronomici dove la Lombardia ha una sua caratterizzazione che potrebbero essere sviluppati e spinti con interventi di favore della Lombardia per facilitare il marketing internazionale come vede anche non so gli start up delle nuove aziende esenzioni fiscali certo quella leva che possiamo usare in territorio e non soggetta alla diciamo delega dello Stato start up di nuove aziende che assumono persone questo vale per Milano ma vale per l'intera Lombardia il vero argomento è questo è il lavoro che viene meno e quello che c'è è minacciato dalla crisi un'istituzione come la Lombardia di questo deve occuparsi in qualsiasi luogo e territorio sia senta ma lei se fosse presidente si porrebbe in assoluta continuità con Formigoni dal punto di vista programmatico o vorrebbe evolvere verso un'idea un profilo del tutto diverso ma se si riferisce a una caratterizzazione della presidenza Formigoni cioè del rapporto virtuoso con alcune anomalie che vanno corrette tra pubblico e privato io ero presidente degli industriali metalmeccanici e nel mio mandato di sindaco ho fatto le più grosse privatizzazioni della storia credo sicuramente di Milano ma una delle più grosse come capitali d'Italia Albertini vende tutto no Albertini non vende tutto Albertini cerca di mettere sul mercato le proprietà pubbliche invece di farne delle greppie per il consenso elettorale dei partiti politici nella fattispecie il caso della Sea e della Lega è un esempio lampante mette sul mercato per favorire l'economia reale anche se i privati in questo paese non è che siano proprio delle mammolette no ma vanno tenuti sotto controllo cioè non è che il privato è un'entità astratta che non fa i suoi interessi nell'oggetto sociale di tutte le società per azioni sia pubbliche che soprattutto private c'è il profitto il profitto è legittimo nel momento in cui viene realizzato a norma di legge e quindi la tendenza del privato è massimizzarlo la regia del pubblico quando lavora insieme è quello di fare come il bravo giardiniere cioè concima la pianta sana e taglia la gramigna o elimina le foglie che non fanno crescere bene il giardino e questo è quello che si fa nel rapporto col privato quindi Formigoni sarà un epigono o vuole essere un rivoluzionario sono liberista con molta convinzione quindi opereremo nel rapporto con il privato se questo è un connotato che vogliamo recuperare dell'amministrazione Formigoni però lo faremo con criteri molto rigorosi soprattutto per mettere veramente in concorrenza sia gli istituti pubblico privato con coerenza e con trasparenza e sia anche le scelte forse c'è un connotato che correggerei della linea Formigoni quando si è al governo da quasi vent'anni con la stessa parte politica e si ha intorno a sé un mondo organizzato e molto capillare di presenze e di consenso mi riferisco alla compagnia delle opere ACL inevitabilmente anche quando non si ha questa intenzione ma è come un fiume carsico diciamo che porta a questi effetti non desiderabili si tende a favorire chi fa parte dello stesso mondo piuttosto che la qualità e la professionalità ecco questo sarebbe una cosa che correggerei non perché ci siano degli illeciti ma perché ancora ritornando al punto uno sono delle situazioni dove la concorrenza sul merito viene attenuata dai valori dell'appartenenza dai rapporti fiduciari dal fatto di essere nella stessa famiglia politica e questo nuoce relazionale come si dice esatto questo nuoce alla qualità del servizio e alla qualità del governo favorisce il potere la sua avversaria Kusterman ci diceva che è un po' da demitizzare questa logica formigoniana del privato nella sanità perché in realtà è un privato con gli accreditamenti cioè un privato che viene pagato dal pubblico e che fa ciò che il pubblico gli rimborsa tanto che diceva poi alla fine Rotelli ha preso le cliniche private e ha chiuso la città di Milano e ha detto che l'altra credo la madonnina sia il lumicino quindi è un tra l'altro i lombardi pagano molto per la sanità non parla la resta dell'Italia ma parla all'Europa cioè è vero che i lombardi sono i migliori in Italia ma la lombardia non è certo la migliore d'Europa questa sua lettura anche anche il bill dell'Italia o l'evasione fiscale dell'Italia o la corruzione dell'Italia non è la migliore d'Europa ci mancherebbe fossimo i migliori d'Europa bisogna risalire al civis romano sum per essere l'anima del mondo di Hegel torniamo a noi la scelta di finanziare la domanda più che l'offerta è una scelta corretta perché è il cittadino che utilizza i servizi sanitari che sceglie in quale istituto andare poi a fronte della domanda soddisfatta la regione riconosce all'istituto accreditato un bonus sulla base della scelta della qualità dei servizi questo è un criterio molto logico è un criterio di mercato che premia appunto la concorrenza che fa chi? il cliente non investo nell'offerta più di tante cioè chiunque sia il suo competitor che sia un grosore che sia un grosore ma che sia il punto il punto la cambieranno che si sono più controlli ma che la basceranno esattamente il punto come è la perequazione esatto esatto c'è un'analogia il punto è l'accreditamento cioè in base a quali criteri c'è questo accreditamento un criterio che cambierei nel senso che introdurrei con più vigore questo aspetto è mutuato dagli episodi disdicevoli ancorché non arrivati a sentenza ma sono circostanziate con Dan Maugeri e San Raffaele e Santa Rita sono anche ma lì diciamo è più dal punto di vista della malversazione dei singoli lì ci sono dei reati penali consumati da medici i controlli evidentemente per i quali i controlli non sono tanti la regione pagava nel caso delle due entità sono due fondazioni ora la regione non è nella condizione di imporre una ragione sociale tipo società per azioni o altre come diciamo obbligo di legge però può richiedere che i bilanci anche delle fondazioni che non sono tenuti per legge a farlo siano strutturati siano organizzati come quelle delle società quotate in borsa non sono dei gabinetti dentistici sono delle grandi istituzioni ospedaliere con migliaia di dipendenti con apparecchi costosissimi con investimenti colossali con qualità della ricerca e del servizio clinico elevatissimo e quindi è giusto che abbiano una struttura di controllo anche evidente tenga conto che chiudo prima di lasciare spazio per un'altra domanda che i due i due casi sono stati anche diciamo facilitati dall'opacità dei bilanci che era possibile per legge come quello dei partiti politici i partiti politici sono organizzati dei bilanci opachi per poter fare quello che vogliono dei capitali che ricevono dallo Stato le fondazioni non sono tenute ad avere i certificatori i revisori né delle diciamo situazioni contabili come quelle delle società quotate in borsa ora è chiaro che ci possono essere dei falsi ci possono essere dei manipolatori ci sono stati anche di imprese private addirittura dei casi mondiali di bilanci fasulli e beh però insomma c'è una barriera d'accesso in più che può favorire quello che è l'intervento che correggerei c'è maggiori controlli ma anche elementi di trasparenza che gli agevolano un'altra domanda che non c'entra niente proprio personale per dire il candidato Albertini Albertini che sono sposato da un paio d'anni sono sposato da un paio d'anni si dice lei è sposato dice no sono scapolo fin dalla nascita però non fino alla morte si mi sono sposato a 60 anni mia moglie che era allora mia moglie che era allora quando ero sindaco la mia compagna ma non ero sposato e allora non aveva visto bene questa cosa non le era piaciuto anche perché ero diventato intrattabile nel senso che il sequestro di persone del consenziente ne sa qualcosa cinzia sasso con il quale con la quale ci si confida a volte per cosa succede del marito e vorrei che si incontrassero le due anche perché mia moglie è di sinistra quindi potrebbero trovare una sintonia moderata non è nei centri sociali Bersaniana Bersaniana ma forse Renziana è più vicina a Renzi che a Bersani però ha apprezzato anche lui quando non c'erano queste alternative così secche invece in questa seconda fase questa che stiamo facendo adesso mi incoraggia moltissimo è molto solidale ed è assolutamente al cento per cento con questa mia battaglia non so se è per questo oppure perché pensa da persona democratica e molto leale la sua è una grande famiglia il nonno di mia moglie Peppino Vismara fondazione Peppino Vismara via Missaglia fondatore del credito artigiano ecco questo un grande benefattore dell'area cattolica pensa che manchi nel nostro paese un'offerta di persone credibili e di programmi seri e coerenti che mettano insieme l'economia sociale di mercato PPE che ci proponiamo di fare che sia una persona credibile lei lo crede non so se saranno in altri credono e che abbiamo programmi nel senso detto è dimostrabile per chi va a leggerli una domanda più tecnica un po' più di diritto lei crede nella governance delle moderne nazioni a livello regionale o forse è più adatto paradossalmente il livello provinciale che peraltro stiamo massacrando e buttando via io ho creduto e credo in due livelli di sussidiarietà uno è quello comunale un po' perché ho fatto il sindaco un po' perché il risconto di tutte le statistiche è più vicino alla gente magari 8.000 comuni sono troppi ce ne sono alcuni con qualche centinaio di abitanti non hanno senso il livello regionale lo vedrei quindi salterei le province non dovrebbero secondo me esserci province dovrebbero essere città metropolitane e comuni il livello regionale però la vedo come miglio tant'è che una delle proposte rinunciabili che peraltro non sono state neanche prese in considerazione ma se ne comprende la ragione è quella della costituzione della macro regione del nord che però non è quella che pensa Maroni le tre regioni dove c'è un presidente leghista è il collegio elettorale nord-ovest e nord-est del Parlamento europeo quindi include sì Piemonte Lombardia e Veneto ma anche Valle d'Aosta Liguria Emilia Romagna Friuli e Trentino e alla stessa stregua sempre seguendo il principio di miglio non vedrei 20 regioni il Molise che va a votare a 300.000 abitanti è un decimo della sola provincia di Milano un'assurdità un'assurdità concettuale istituzionale politica e anche diciamo spending review immaginate cosa vuol dire avere una regione con 300.000 abitanti quindi nord-centro-sud tre grandi regioni come nell'idea di Miglio l'unico vero pensatore della Lega volevo sentire Alberto una cosa scusi dobbiamo stringere perché deve partire sì sì ho visto che posso stare anche qualche minuto in più prego in realtà la proposta di Maroni è l'euro-regione lei l'ha banalizzata in Piemonte l'euro-regione lei l'ha banalizzata un pochino in Veneto-Lombardia Piemonte però non è comandiamo in queste tre e facciamo però vedo un'apertura sull'euro-regione o sulla macro-regione del nord invece sull'altro tema importante della campagna di Maroni sul fatto di tenere il 75% delle tasse nella regione dove vengono prodotte questo è campagna elettorale o? sì è chiaramente un argomento squisitamente demagogico nel senso proprio greco del termine conduco il popolo è chiaro che a una regione che già è punita per il fatto che produce e altri consumano dire una cosa del genere può fare piacere io invece che Maroni leggerei il libro di Ricolfi il sacco del nord dove questi argomenti sono trattati a un livello scientifico e sono sviluppati con dei criteri quali quantitativi non solo questi concetti astratti che tengono allegra la gente ma che non risolvono il caso e in quel libro che suggerisco all'attenzione di chi ci ha scorsa non solo di leggere ma di studiare sono rappresentati i riferimenti di produzione di reddito e di spesa pubblica di ogni territorio e succede questo che per esempio sul credito debito fiscale la Lombardia ha un'evasione fiscale del 12% a livello europeo sul proprio PIL e la Calabria ha l'85% e quindi non puoi non tener conto di quanto si trattengono direttamente i cittadini rispetto alla produzione che fanno quando stabilisci i trasferimenti per esempio poi c'è il credito di efficienza se al Santo Bono di Napoli una siringa costa il doppio o il triplo che al Policlinico di Milano è evidente che c'è qualcosa che non funziona non sono i costi standard che ha bloccato Monti non sono i costi standard che ha bloccato Monti sono politiche federaliste che devono essere attuate vanno considerati questi aspetti più che non il 75% delle tasse farei in modo che le regioni che hanno virtuosità poi ci sarebbe il terzo argomento che è il credito debito fiscale il credito debito di efficienza e il credito debito di parsimonia che è la spesa sociale sul territorio se ci sono pensioni sociali o dipendenti pubblici i 30.000 della Sicilia i 3.600 della Lombardia questi sono i veri argomenti piuttosto che non le tasse è sulla spesa e dare responsabilità ai territori per cui se il siciliano vuole pagarsi 30.000 dipendenti è lui che deve pagarsi questo conto con le sue scelte perché la Sicilia deve lavorare con 30.000 persone che fanno passare le carte e la Lombardia che ha il doppio degli abitanti e 10 volte il PIL con un decimo degli addetti un ultimo dato della Lombardia 21 euro pro capite costo del sistema istituzionale e burocratico della Lombardia media nazionale 109 e dovrei dare un calcio dell'asino a Formigoni non credo quindi un Albertini che si conferma laboratorio di contaminazioni perché Formigoniano ma in freddo con Berlusconi ma con la moglie di sinistra Renziana sono gesuita e è vicino a Miglio quindi ragazzi stanno succedendo delle cose fondamentali in questa nostra riunione un ultimo aggiornamento dalla borsa prima di 360 no rimane si è stabilizzato intorno ai 350 lui sta sta cercando di come si dice i mercati stanno che non vince Berlusconi allora sono meno stabilizzato sui 355 la borsa di Milano continua ad essere la peggiore d'Europa sta gufando 38% Credit Suisse è d'accordo Credit Suisse è d'accordo con lei perché dice che gli effetti non saranno così disastrosi Credit Suisse perché i mercati si aspettano una vittoria della coalizione Bersani meglio ancora si è accompagnato dai centristi perché se dovesse vincere Bersani con Vendola che chiede che chiede l'uscita dalle regole peraltro incomplete sono d'accordo con lei sull'articolo 18 credo che i mercati avrebbero qualcosa da dire come sull'inaffidabilità della nostra capacità di gestire il debito ci sono anche i primi commenti politici oltre a Fassina ascoltato da noi di Affari Italiani che ha detto che la colpa è determinata da chi ha voluto causare questa instabilità per qualche voto in più con evidente riferimento ossessione anti-berlusconiana ma un'uscita per certi versi più sorprendente ma non meno dura è quella del presidente della CEI Angelo Bagnasco che ha detto che non si può mandare in malora non si possono mandare in malora i sacrifici di un anno che sono ricaduti spesso sulle fasce più fragili va bene la politica però l'ha già anticipato Paolo mi pare silente no la politica non ci sono reazioni in questo momento si aspetta probabilmente di vedere i mercati appunto come si assisteranno la mia domanda invece per l'eurodeputato era la seguente lei ha detto che in Italia vorrebbe creare un partito movimento che si ispira al Partito Popolare Europeo che immagino si andrebbe a sistemare al centro nel panorama politico italiano centro che in questo momento è direi quasi sovraffollato e molto frammentato cioè Casini Fini Montezemono Riccardi Olivero e via dicendo cosa succederà nei prossimi mesi al centro e lei in quale ottica si pone rispetto agli altri soggetti che stanno cercando di creare un partito unitario può essere Monti l'aggregatore io rispondo con le stesse parole di prima cioè quel giorno è stato solo un giorno un'ora tre ore di incontro quel tavolo era composto dal Partito Popolare Europeo in Italia in Italia si è disgregato in Europa si mantiene poi c'era il civismo di una candidatura civica e c'era il sindaco di Milano benedicente ma c'era Nicola Rossi cioè Italia Futura questo è l'aggregato che in Lombardia può partire e può essere il paradigma di quello nazionale manca per il nazionale il leader e io naturalmente spero e penso che lo faccia a Monti che lo faccia a Monti e non so se lo vorrà fare forse questi ultimi scenari lo inducono a ritenerlo possibile perché prima doveva essere il garante di una coalizione il PDL l'ha fatto cadere anticipatamente per i suoi calcoli elettorali e a questo punto la mani libere e infatti il primo gesto è stato no non mi faccio rosolare fino a marzo andiamo a febbraio e se scende in campo la benedizione del cardinale Bagnasco dice qualcosa su quello che può avvenire anche nel mondo cattolico il sacro Monti il nostro libro lei è uno dei testimoni di questo resoconto di Claudio Bernieri perché è stato appunto con Monti compagno al leone siamo ex alunni entrambi dei gesuiti lei si sarebbe recanto al Quirinale per dire ciò che ha detto Monti cioè statevi bene ma ho molto apprezzato la dignità e anche diciamo la schiena dritta di Monti lui ha fatto ha svolto queste funzioni per spirito di servizio è stato chiamato non l'ha cercato ha agito con molta direi efficacia pur nei limiti del tempo e della criticità in cui si è trovato nel momento in cui viene meno beh non sta al gioco di sostenere l'alleato diceva Lenin come la corda sostiene l'impeccato ha tagliato la corda nel senso che ha togliato il capio Berlusconi ha la responsabilità di aver fatto chiudere anticipatamente la legislatura ne risponderà ai suoi elettori ma lei dice che sarebbe stato meglio un mese in più di Monti o è meglio un governo legittimamente votato un mese prima? Io avrei preferito la fine naturale della legislatura perché alcuni provvedimenti in corso di approvazione sono molto complessi la legge di stabilità le province altri e richiedevano il tempo previsto estimato di qualche mese e quindi la fine della legislatura non è un'interruzione della democrazia anzi è il rispetto delle regole con cui si gestisce il consenso e il dissenso il voto elettorale va a una naturale scadenza non c'era nessun motivo se non quello di fare l'accordo con la Lega del famoso election day per mettere insieme la Lombardia con le politiche per fare cadere prima il governo mi disse il responsabile dell'ufficio studi di Mediobanca che opera a Londra e al polso del mercato che il vero problema è l'incertezza su chi sarà al governo non sul fatto che cambi il governo cioè chi si insedierà e chi garantirà appunto dei debiti di questo paese questo è il punto è l'agenda Europa quando siamo partiti parlando dello spread cioè il governo Berlusconi è caduto perché ha dimostrato ai mercati anche per l'incongruità della Lega l'ultimo passaggio era la riforma delle pensioni mancante che non si stava dimostrando in grado di gestire il debito cioè rendeva inaffidabile il debito dello Stato italiano perché non in grado di rimettere i conti in ordine anche intervenendo in maniera impopolare sui costi e sulla tassazione se noi titoliamo Monti aggregatore del centro e Albertini il suo uomo in Lombardia indoviniamo questo titolo o no? beh ne sarei onorato non so se la cosa può essere vera però quando mi sono immodestamente definito un piccolo Monti molto piccolo e ho ricevuto la battuta su Montini e su Montoni in fondo è quello che volevo dire tra Montini e Montoni Monti li ha fatto capire che è pronto a scendere in campo o no? guardi io non so se lo farà però avendo studiato 12 anni dei gesuiti e avendo credo anche lui abbia fatto il liceo classico mi viene in mente un episodio del Debello Gallico che è bellissimo anche se chiederei a Monti un atto di eroismo che forse non so se è il caso di chiederlo siamo all'assedio di Alesia e le legioni che circondavano la città sono a loro volta circondate da una sortita degli assediati e l'esito della battaglia è compromesso Cesare sale su un podio col suo mantello rosso ben visibile dai legionari e fa teatralmente allontanare il cavallo dal campo di battaglia per dire muoio o vinco con voi ecco se come Montanelli Monti rinunciasse all'aticlavo a vita solo Montanelli e Monti due delle quattro grandi medaglie d'oro che ho conferito a quattro persone gli altri erano Mutti e Martini facesse questo gesto di grande indifferenza per il prestigio il massimo prestigio che può essere attribuito a un uomo si mettesse in gioco guidasse il partito credibile e coerente che vogliamo immaginare io penso che potrebbe arrivare sicuramente secondo e forse anche primo come lo chiamerebbe questo partito su questo non riesco non riesco a essere efficace non so potrebbe essere potrebbe essere il il PPA italiano certamente avrebbe molti riferimenti con con questo mondo con questi valori e con questa con questo indirizzo con questo programma con dei riferimenti fortemente europeista visto che vanno molto i riferimenti cattolici visto che Bersani ha citato Roncalli e che Renzi ha citato dunque la vostra comune origine salesiana ci avrebbe anche mi permetta salesiana Berlusconi ha studiato dai salesiani noi abbiamo studiato dai gesuiti c'è un abisso mi permetta todo modo para buscare la volontà divina è stato proprio un lapsus di coordinamento non ci confonda il popolo e le elite erano i padri spirituali dei sovrani d'Europa assolutamente quindi ci abbiamo anche il santino certo Sant'Ignazio io chiudo con domanda spot quindi se con i partiti attualmente in campo election day lei chi voterebbe ovviamente con i partiti in campo attualmente in campo deve esprimere un voto ci devo pensare non lo so sono tra quelli che devono scegliere che devono riflettere e chi voterebbe invece le primarie alle primarie della sinistra per il canale c'è il centro-sinistra sono sfidanti non è che ne siano rimasti molti poi comunque ho già detto ad Ambrosoli quando in un primo tempo aveva rifiutato gli ho offerto di entrare nella lista civica naturalmente per una ragione anche di garbo ha rifiutato poi adesso lo troverò come concorrente però ribadisco quello che ho detto in privato a lui e in pubblico ripeto oggi che se fossi eletto governatore della Lombardia chiederei a lui non alla sua squadra a lui personalmente di fare l'assessore alla legalità e alla trasparenza bene grazie ringraziamo il nostro amico onorevole Albertini grazie per l'amico che è contraccambio veramente una chiacchierata franca aperta con dei contenuti io direi che ci sta ragazzi un'apertura del giornale cioè qui oggi mi sembra di capire che abbiamo Montini meglio che Montoni potrebbe essere il titolo mi pare di capire che sta nascendo siamo riusciti a dare il nome a un fenomeno che si sta muovendo e dare un nome alle cose è un po' anche farle nascere no? beh sì secondo la Bibbia l'uomo aveva questa facoltà di attribuire col nome il significato a quello che avveniva il dominio che viene dato sull'essere vivente quando l'uomo ha l'intelligenza con cui può farlo può svolgerlo questo dominio nomina su un conseguenzi a rerum perfetto grazie grazie a chi ci ha ascoltato e in bocca al lupo crepi grazie a chi grazie a chi